Mister, peccato perché così fa male, si è vista una partita equilibrata, lo dicono i numeri, hanno detto le fasi di gioco, forse solo un po' più di pressione della Juve nella prima parte del secondo tempo e poi quella disattenzione fatale alla fine. Ma è stata una buona partita, una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra, in casa loro, entusiasmo, striscia super positiva, sette vittorie di seguo senza far prendere gol, però secondo me i ragazzi l'hanno affrontata bene, abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati molto aggressivi in avanti, abbiamo avuto anche delle situazioni, ecco lì forse dobbiamo essere un po' più cinici, un po' più cattivi negli ultimi metri, la Juve chiudeva molto gli spazi, dovevamo fare qualche cross più veloce dentro, però c'è anche la grande solidità di questa squadra, della Juventus, che non prende gol da compresa oggi purtroppo da otto partite. Poi nel secondo tempo la Juve ha alzato il ritmo, però secondo me noi siamo stati bravi a non scomporci, a essere uniti, compatti, poi secondo me era anche l'ora di mettere dentro gente fresca, perché comunque abbiamo giocato due giorni fa e avevo anche da gestire muscolarmente Udoji e Success, perché comunque Udoji sapevo già che doveva fare un minutaggio limitato per il problema che ha avuto e che si è riaccutizzato, è success idem, però io dico che siamo stati equilibrati, chi è entrato ha ridato tutta vivacità, in mezzo al campo, sull'esterno e la squadra ha ripreso anche a giocare, abbiamo ribaltato, siamo andati dentro l'area, potevamo fare anche noi gol, poi la disattenzione finale è una doccia fredda, peccato perché lì dovevamo stare molto più attenti, troppo facile il gol concesso da Juve, lì dobbiamo stare tutti concentrati, perché lo dico sempre, tutti i palloni in questa categoria devono essere valutati e giocati con grande concentrazione, è un peccato vero. Cosa, al di là della delusione, cosa si porta dietro? Perché abbiamo visto una squadra che ha dimostrato uno spirito anche importante, come diceva lei, al netto di quella disattenzione finale, in positivo magari si porta a questo, magari come ulteriore spunto di miglioramento anche quello che chiedeva magari durante la partita alla panchina di calciare di più in porta ai suoi giocatori. Io oggi analizzo una sconfitta, ma non sono dispiaciuto di quello che ho visto, perché la squadra è viva, la squadra è super viva, la squadra ha giocato, ha giocato bene, è stata aggressiva, tutti dentro, chi ha iniziato la partita, chi ha subentrato, ha dato il massimo, abbiamo giocato anche un buon calcio, uscendo bene da dietro. Ecco, negli ultimi metri dobbiamo cercare tutti quanti di essere più cattivi o con tiri da fuori o con traversoni più veloci dentro e attaccare con più cattiveri alla porta. Però l'abbiamo fatto anche nel secondo tempo, anche nel primo tempo, dei tiri sono stati precisi. Ecco, lì secondo me per le qualità che abbiamo dobbiamo essere un pochettino più lucidi nel trovare di più la porta. Ecco, lì secondo me per le qualità che abbiamo dobbiamo essere un pochettino più lucidi nel trovare di più veloci.